Aula 1, scuola di recitazione del Teatro Nazionale di Genova, nono giorno di prova di Grounded di George Brent, tamponi effettuati tutti negativi, siamo in prova, sono Davide Liva Non è a caso, la devi sentire di più, non dare per contatto, il pubblico non sa che cos'è questa e il pubblico non sa nulla. Dai, vai un po', vai, rifacciamo un po', a capo, vai, dov'è la forza di gravità, non è su, dai, 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 è più di una tuta, così, stacci dentro, vai, Dai, cazzo!